Buonasera, benvenuti a questo incontro nell'area Polis, questo percorso che guarda la città e le città da punti di vista differenti. Questa sera l'incontro ci dà l'opportunità di avere il punto di vista da una parte di chi le città è chiamato ad amministrarle, a governarle e quindi abbiamo tre sindaci tre sindaci di città diverse, differenti, per dimensione, per vocazione, per caratteristiche e ringrazio ovviamente della disponibilità e della presenza il sindaco Antonio De Caro che è sindaco di Bari e insieme presidente del Lanci nazionale, quindi ha una vista sui comuni anche di tipo molto più ampio e nazionale, Raffaello De Ruggeri che è sindaco di Matera quindi un'altra città con una vocazione molto specifica e molto particolare e diciamo ovviamente Andrea Agnassi sindaco di Rimini, quindi che essendo qui a Rimini era il minimo che potessimo fare di invitarlo e di averlo e anche qui Rimini con caratteristiche proprie, Rimini è una città che ha 150.000 abitanti, sì, in grosso modo, ma una provincia che annualmente vede probabilmente circolare 3 milioni di turisti e quindi diciamo con una di più, veramente di più, quindi ho dei dati sbagliati. Assieme ai tre sindaci abbiamo chiesto di partecipare a questo dibattito per avere un punto di vista diverso, diciamo con una vista differente, tre diversi livelli di interlocuzione con le amministrazioni comunali e con le città. Abbiamo Aldo Patruno che è direttore del Dipartimento Turismo, Economia e della Cultura e Valorizzazione del Territorio della Regione Puglia, quindi un ente regionale. Pietro Pacini che è direttore generale del CSI che è il Consorzio per il Sistema Informativo Piemonte, che è un consorzio che raggruppa oltre 120 enti locali, dalla Regione al Comune, al Politecnico, a una serie di agenzie e che offre servizi alla pubblica amministrazione, quindi un livello di aggregazione differente. Per concludere Paolo Quaini che è l'esecuto vice presidente della divisione servizi energetici di Edison e quindi in questo caso un'impresa privata con una storia, se andate sul sito di Edison vi ricorda che Edison è la più antica società che si occupa di energia da 130 anni, ma che negli ultimi anni ha deciso, oltre che avere la sua vocazione tradizionale dal punto di vista di infrastrutture nazionali, di guardare al territorio anche in maniera più puntuale, guardare gli enti locali e le città e offrire servizi energetici e collegati a servizi energetici, gestione degli edifici, ottimizzazione energetica, realizzazione di impianti e quant'altro sul piano locale. Quindi come vedete un panel che offre punti di vista differenti. Quest'arena e questi incontri, come ho detto prima, hanno l'ambizione di aiutarci a guardare alle città da punti di vista differenti. Facciamo un primo giro di domande, i nostri ospiti avranno 7-8 minuti a testa, dove il primo giro nasce da queste considerazioni. Le città hanno dei confini amministrativi e i sindaci governano dentro questi confini amministrativi, ma le funzioni che hanno a che fare con le città non guardano i confini amministrativi, le infrastrutture, i servizi e quant'altro. E questo è un primo tema quando si ragiona sull'insieme ed è vero, domanda se insieme si vince. Dall'altra parte, se guardiamo ai sindaci, secondo me, poi magari loro mi smentiranno, ma i sindaci fanno un mestiere che ha due facce. Da una parte sono dei regolatori, hanno un territorio, devono far rispettare delle regole, devono far accadere delle cose dentro delle regole, ma dall'altra parte sono chiamati, oltre ad essere la faccia della città, ma insomma ad aiutare lo sviluppo della città. E quindi tenere insieme il fatto che bisogna regolare da una parte, dall'altra parte bisogna sviluppare e ancora una volta quando parliamo di sviluppo, sviluppo con chi? Sì, perché quando parliamo di insieme si vince, il ragionamento può valere all'interno della città, insieme ai cittadini, alle associazioni, al mondo che c'è dentro le città, vuol dire insieme frenti locali, c'è l'esempio del consorzio, vuol dire insieme con livelli diversi di istituzioni, vuol dire insieme con le imprese che possono offrire servizi. Ora, questi sono gli spunti, abbiamo deciso di fare un primo giro, cominciando dal sindaco De Caro che ha una vista anche di tipo nazionale e tra l'altro Bari, se non sbaglio, è come numero di abitanti la quinta città metropolitana dopo probabilmente Roma, Milano, Napoli e Torino, quindi anche con dimensioni assolutamente significative. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Credo che proprio la città metropolitana di Bari, che ha un milione 200 mila abitanti, dimostra che le funzioni amministrative normalmente di programmazione, di pianificazione, non coincidono con i confini rigidi dal punto di vista amministrativo della città capoluogo di regione. La città di Bari addirittura ha 320 mila abitanti su un milione e 200 mila che sono gli abitanti dell'area metropolitana di Bari, quindi non si può dire nemmeno che la città metropolitana di Bari sia baricentrica, utilizzando anche un gioco di parole, nel senso che il numero degli abitanti che abita fuori dalla città capoluogo, contrariamente a quello che accade a Roma, in altre città, Torino, in altre città metropolitane, è decisamente quello che sta fuori, decisamente superiore a quello che sta nella città capoluogo. La mia città, per esempio, si è sviluppata non in maniera coerente negli anni, c'è stato un blocco dell'edilizia per un periodo e tante persone lavorano nei comuni, come è capitato in altre città metropolitane, lavorano nella città di Bari e vivono nei comuni della prima e della seconda cintura, della seconda fascia, mantenendo relazioni dal punto di vista lavorativo ma anche dal punto di vista sociale, familiare, con la città capoluogo di regione. Già questo crea un legame dal punto di vista della mobilità, quindi ci sono tante persone che la mattina vengono a lavorare nella città capoluogo e sono persone che provengono dalla città capoluogo, a dimostrazione che le funzioni non le puoi gestire solo ed esclusivamente come città capoluogo. Mi è capitato quando facevo l'assessore al traffico della mia città di cominciare a ragionare nell'ambito cittadino e poi quando abbiamo cominciato a fare le indagini del traffico ci accorgevamo che la maggior parte delle automobili che si spostavano all'interno dell'ambito cittadino erano di persone che avevano queste relazioni lavorative e quindi venivano da fuori, erano dei pendolari e spesso, anche per quella che è stata la mia esperienza di ingegnere dell'ANAS, di ingegnere dei trasporti, mi sono chiesto se avessimo studiato all'epoca, avessimo fatto un'indagine del traffico non cittadina ma a scala metropolitana ma addirittura a scala interregionale tenendo insieme comuni come Altamura ma anche come la vicina Matera che dista pochissimo tempo, probabilmente più che sulla strada su cui poi abbiamo investito, abbiamo portato finalmente quasi a quattro corsie la strada che collega Bari con Altamura a Matera, avremmo investito sul trasporto pubblico perché individuando nei pendolari la maggior parte delle automobili che arrivano nella mia città, ragionare su un sistema ferroviario probabilmente ci avrebbe permesso di decongestionare non solo la strada principale di accesso alla città ma anche alle strade cittadine. Le funzioni non si sovrappongono ai confini amministrativi anche delle città metropolitane, motivo per il quale abbiamo perso forse tanto tempo per la realizzazione delle città metropolitane. Pensate, la legge sulle città metropolitane nasce il 9 giugno del 1990, sembra passato un secolo, se pensate che lo stesso giorno Schillaci ai mondiali del 90 segnava contro l'Austria, io non so più nemmeno che cosa fa Schillaci, nel frattempo sono passati tanti centravanti con alterne fortune a fare i centravanti della nostra nazionale. Questa è la dimostrazione del fatto che dal 92 abbiamo dovuto aspettare il 2015 per arrivare alla norma che poi le ha istituite veramente le città metropolitane, in tutti questi anni siamo stati a discutere sulla dimensione della città metropolitana, ma deve essere un po' più grande del comune capoluogo di regione tenendo dentro i comuni di prima fascia e di seconda fascia? E come si calcola la fascia? Col numero dei residenti che sono usciti dal comune capoluogo? Oppure utilizziamo un termine trasportistico tipo tutti quei comuni che si possono raggiungere in 10 minuti col trasporto pubblico, in 20-25 minuti con l'automobile? E siamo stati per anni così, fino a quando all'epoca con la legge del Rio si è deciso che le città metropolitane erano uguali alle province e non ne abbiamo parlato più, sicuramente non abbiamo fatto un ottimo lavoro, però almeno le città metropolitane sono partite. Io credo che proprio per il fatto che non puoi far coincidere le funzioni con il limite amministrativo di una città, la scelta di individuare le città metropolitane e spero anche, visto che le province sono rimaste in piedi perché i cittadini hanno votato al referendum, spero che anche le province possano diventare un ente intermedio, possano diventare una sorta di casa dei comuni, come sono diventate le città metropolitane, una sorta di consorzio con un'elezione di secondo livello dove i comuni stanno insieme. Non saliamo più, come diceva un mio collega sindaco, ognuno sul proprio campanile, ma abbiamo imparato grazie alla città metropolitana, almeno questo è il caso positivo della mia città metropolitana, abbiamo imparato tutti a salire sul proprio campanile e a guardare insieme all'orizzonte, questo ci ha permesso di coprogettare, copianificare, di tenere insieme, ci ha permesso di avere molti fondi, abbiamo avuto 240 milioni di euro dal governo per fare il patto della città metropolitana, individuando assi di investimento, tutti uguali ovviamente, l'abbiamo distribuito sulla popolazione, abbiamo distribuito i fondi sulla popolazione, avendo individuato insieme gli assi strategici, non è che ogni singolo comune ha chiesto di finanziare uno la piazza, l'altro la strada, l'altro la pubblica illuminazione, abbiamo deciso gli assi strategici della città metropolitana e siamo stati noi attori delle scelte, abbiamo scelto quali comuni finanziare e su quale attività, senza demandarlo al governo o alla regione, siamo riusciti anche a vincere un bando, il cosiddetto bando periferie, che ha permesso alla città metropolitana di Bari di ricevere un altro finanziamento per fare un'operazione di ricucitura dal punto di vista urbanistico, una cosa che sta dando la possibilità a tante aree metropolitane, a tanti capoluoghi di provincia di intervenire nei posti più strategici delle nostre città, che sono le periferie, dove è più forte il disagio dal punto di vista economico, dal punto di vista sociale. Per tornare al tema dell'incontro di oggi, uniti si vince, ecco quella è una battaglia che tutti i comuni all'interno dell'Associazione Nazionale dei Comuni sono riusciti a vincere nei confronti del governo, perché ancora non abbiamo capito per quale motivo qualche mese fa, a seguito di quello che abbiamo chiamato un furto con destrezza al Senato, approvata l'unanimità, quindi non c'era maggioranza opposizione, approvata l'unanimità, un emendamento notturno aveva fatto saltare 2 miliardi e 100 milioni di euro per i comuni italiani che finalmente dopo tanti anni avevano ricevuto questo finanziamento per fare una ricucitura, che è una ricucitura dal punto di vista urbanistico nelle nostre periferie, ma lì diventa anche una ricucitura dal punto di vista sociale. Quei fondi ci permettono, visto che li abbiamo recuperati, ci permettono di realizzare spazi per la socializzazione, ci permettono di fare attività per la socializzazione. In quartieri complicati, prima in un'intervista Radio Vaticana ho raccontato un aneddoto che racconto e chiudo. Avevo inaugurato da qualche mese, ero diventato sindaco da poco, un parco cittadino che avevo ricevuto in eredità dal mio predecessore, non era nemmeno merito mio e io mi vergognavo perché il parco era bello ma c'era un'unica altalena. Il giorno dopo sono tornato per guardare l'effetto che fa, come diceva una vecchia canzone, per vedere che succedeva ai cittadini. Il parco era pieno e c'era una coda di bambini per una sola altalena e due mamme sono venute verso di me e io pensavo mi riempissero di improperi, invece mi avevano ringraziato. Io ho detto ma perché mi avete ringraziato? I bambini stanno facendo la coda, c'è solo un'altalena, adesso le abbiamo aumentate. E loro mi hanno detto no, ci avete dato la possibilità di conoscerci. Io ho detto perché abitate da poco in questo quartiere? No, abitiamo nello stesso palazzo da vent'anni ma non avevamo gli spazi per socializzare, non ci siamo mai conosciuti. Ecco, quell'aneddoto che ho raccontato oggi racconta di una storia che ha permesso a un amministratore, a un sindaco di capire dai cittadini quali sono le cose che dobbiamo fare. Dobbiamo realizzare spazi per socializzare, fare attività di animazione dal basso, farle fare ai cittadini, animazione sociale, animazione culturale, per stare insieme, per cercare di consolidare una rete che già esiste nelle nostre comunità, che è la rete delle associazioni, del terzo settore, delle parrocchie, delle scuole e anche del privato che tengono in piedi la comunità che noi abbiamo l'onore di amministrare. Grazie. Grazie, bravissimo anche nei tempi. Insieme si vince come città metropolitana per quello che ha raccontato in termini di articolazione di territorio e interventi. Insieme si vince quando come ANCI si fa un'azione verso il governo e si recuperano risorse e si possono realizzare progetti. Insieme si vince perché si riconosce il tessuto della città e l'esempio e l'aneddoto credo che sia chiarissimo. Vediamo l'esperienza di un comune diverso, perché Matera, che ha dimensioni diverse evidentemente da Bari, che ha una sua storia particolare e prima quando stavamo aspettando di iniziare il dibattito, il senso che mi ha raccontato alcuni episodi o alcune situazioni dove si capisce perché è vero che insieme si vince. Prego. Sì, grazie. Grazie dell'invito, grazie della vostra attenzione. Insieme si vince, ma per vincere bisogna diventare città. Questo è stato l'obiettivo principale di una lunga marcia nella mia città di Matera. Vedete, Matera era nel dopoguerra la rappresentazione fisica della miseria pezzente del mezzogiorno. E voi sapete che la miseria umilia talmente degli uomini e le donne da farli arrossire anche dei propri valori. Sembrava che questo territorio fosse portatore solo di disvalori, non ci fossero virtù. Ma per realizzare una città occorreva far lievitare questi valori nelle coscienze delle donne e degli uomini di Matera. Noi lanciamo in tempi lontani una sfida, perché Matera ridiventi città. E come si fa a diventare città? La città non è fatta da palazzi, la città è fatta da cittadini, ma da cittadini consapevoli. E come si fa a farli diventare consapevoli? Facendoli lentamente godere della storia del luogo, del genius loci, delle virtù territoriali. Lentamente i cittadini hanno compreso di vivere in una città unica e universale, perché Matera è una delle città vive più antiche del mondo. E se vive da 8.000 anni ininterrottamente è perché in questi 8.000 anni è riuscita sempre a costruire nuova storia. Era il tempo che si abbandonassero gli abiti della miseria e si indossassero gli abiti della cittadinanza attiva. Questo è stato il miracolo di Matera. Lentamente, attraverso una socializzazione della cultura, quando abbiamo educato la comunità a capire che il capitale fisso di storia poteva trasformarsi nel ruolo della città, nel proprio sviluppo, i cittadini hanno cominciato a diventare protagonisti. E a Matera è avvenuto un miracolo. La questione culturale si è trasformata in questione politica, cioè la consapevolezza di vivere in un luogo straordinario, che prima era sconosciuto, fatto sì che i cittadini e le cittadine si sentissero responsabilizzati nella costruzione del nuovo corso della polis, cioè aderire al futuro della polis. Questo è stato il brand Matera Capitale Europea della Cultura, perché l'obiettivo di Matera Capitale Europea della Cultura non era quella soltanto di fare gli avvenimenti nel 2019, ma di costruire una nuova struttura sociale, cioè cittadini consapevoli, cittadini ardenti, cittadini fieri di essere materani. Con questa operazione abbiamo liberato la città dai fatalismi, dalle restagnazioni, dalle sfiduce, ma soprattutto dal pessimismo. E il pessimismo, voi sapete, è sinonimo di immobilismo. Questa è la ricetta di questa città esincolare, che ha trovato nella forza della sua storia l'elemento tonificante per costruire il futuro e un ruolo. E qual è il ruolo di una città che può offrire al Mezzogiorno e all'Italia? Questo adesso è il compito di questa città. Vedete, il sindaco di Matera non rivendica ciò che manca. Potrebbe cominciare a dire che Matera è l'unica città non servita della ferrovia. Rivendica ciò che serve. E oggi servono spazi di produzione economica con le conseguenti ricadute occupazionali. Questo serve. Come si costruisce questo spazio? Attraverso un nuovo percorso eretico, ma nello stesso tempo profetico, perché Matera ha la profezia nel suo DNA di vedere il presente non solo come continuazione del passato, ma come anticipazione del futuro. E oggi Matera deve produrre scienza, come il Mezzogiorno, perché io ritengo che la nuova autonomia economica del Mezzogiorno passa da un legame forte tra identità e tecnica, tra autenticità e innovazione. E oggi gli spazi della ricerca sono quelli che debbono trionfare. Perché gli spazi della ricerca non sono né di destra né di sinistra. Sono gli spazi che possono consentire all'intero Paese di ritrovare i sensi della competitività e della dignità nazionale. Questo è il compito di una città capitale europea della cultura. E cosa stiamo facendo? Mentre impazza il turismo, mentre cresce il PIL, mentre sembra che il turismo debba essere il punto di forza della città, noi riteniamo che il punto di forza della città deve essere quella della innovazione, della tecnologia. Stiamo costruendo hub digitali e case delle tecnologie, perché su questi livelli si farà il futuro non solo della città, ma anche del Paese. E questo serve a dare forza a coloro che vivono fuori ormai della Basilicata e di Matera per ritornare, se non tutti i locali, ma anche i giovani in questa operazione. Abbiamo detto che noi dobbiamo trasformare i vicinati e i contadini in vicinati digitali. Detto sottovoce ci stiamo riuscendo. Il 24 ottobre si inaugura l'Hub Digitale Comunale, dove andranno a insediarsi 13 imprese manufatturiere del digitale con una sede del CNR che sovraintenderà a queste operazioni. Questo è il livello di una città capitale europea della cultura. E noi abbiamo anche un'altra ambizione e chiudo. Noi abbiamo l'ambizione di essere ancora eretici, di mettere nella tecnologia pillole di etica e pillole di umanessimo. Vogliamo costruire il rinascimento digitale, partendo dal sud e non avendo paura di partire dal sud. Questo è il livello di una città. E questo valore serve ad aggregare tutte le comunità meridionali e non solo meridionali, che sono a caccia di una loro dignità e di un loro recupero di ruolo. Perché noi portiamo fuori della città questo segnale di fiducia, di speranza e anche di ambizione. Questa è la ricetta materana, quella che è riuscita a far sì che questa città di appena 62.000 abitanti fosse oggi capitale europea della cultura. Grazie. Io ho capito questo. Insieme a partire dalla città e dove il punto è stato facciamo riemergere ed esplicitare l'identità che nasce dalla storia, primo. Secondo, però, questa non può essere un'operazione che guarda al passato, ma il passato, l'identità che viene fuori dal passato, serve per cui la città dei sassi, è una città dei sassi che sta diventando e vuole diventare città dei sassi digitale, che è una sfida molto forte e interessante. Il sindaco di Rimini, non dico più numeri perché prima li ho sbagliati, però quello che volevo dire è una città che ha un certo numero di residenti, ma che sta su un territorio molto integrato, perché poi spesso non c'è soluzione di continuità con altre realtà amministrative, e che ogni anno deve gestire un flusso enorme di persone che arrivano, ripartono, stanno un certo numero di giorni. Quindi il tema delle funzioni, dell'integrazione, di cosa vuol dire fare insieme. Prego. Grazie, buonasera. Tanto mi auguro e vi auguro di stare bene qui al meeting, per noi è una delle storie di questa città, una storia che dura da 40 anni, quando qualcuno qua si mise in testa questa avventura di incontro, di relazione e di amicizia, un po' un marciare in una direzione ostinata e contraria, soprattutto in questi tempi dove si guarda all'altro come un nemico e qua invece guardi all'altro come qualcuno nel quale riconoscerti per capire anche chi sei, è il tema di quest'anno. Il meeting forse nasce a Rimini perché Rimini ha anche questo carattere. Ci è capitato di dirlo, Rimini come tante altre città, però non è una città perfetta, ma è una città libera. È una città libera perché ad esempio sulla costruzione delle relazioni tra le persone ha costruito non solo una propria identità e si ritrova in una propria identità, ma ci ha costruito anche un modo di interpretare il cambiamento, di stare nel mondo, di costruire un'economia. Noi siamo un piccolo borgo, un costruito perché solo il comune di Rimini ha 16 chilometri di waterfront di lungomare e a proposito di funzioni abbiamo a che fare con l'erosione del mare, con il sistema idrico fognario, ma anche perché alle nostre spalle ci sono delle colline dei monti con il sale che devi spargere d'inverno perché nevica fino ai nostri appennini dove abbiamo un monte che si affaccia su di noi, che è Carpegna, che è a 1400 metri. A proposito di funzioni. E poi abbiamo dentro, oltre insieme ai nostri 150-160 mila residenti, uno Stato estero dentro il territorio comunale, che quindi aumenta la popolazione, ma pensate a cosa vuol dire uno Stato estero dentro un territorio comunale. Un quartiere fieristico di dimensioni internazionali, noi competiamo con Milano, siamo entrati in borsa, abbiamo acquisito Vicenza, come diceva Antonio, sindaco di Bari, l'Italia soffre di tanti problemi e dal mio punto di vista anche quello dell'ipercampanilismo, del sovranismo applicato al vicino di casa. Competiamo nel mondo sul sistema fieristico e non ci accorgiamo che tra i primi 10 campioni europei dei sistemi fieristici noi siamo, se va bene, al dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo posto, perché tutti gli altri prima di noi sono tedeschi, che aggregano, che uniscono, che mettono insieme Francoforte con Monaco, quando noi guardiamo al campanile per magari provare a portare via la fiera al vicino di casa. Rimini è questa realtà qui. Facciami conti ad esempio con un dato, city user, cosa vuol dire? Vuol dire che ad esempio in campo turistico non ci sono più turisti né viaggiatori, ma ci sono cittadini temporanei di un luogo. Io quando viaggio mi sento cittadino temporaneo di un luogo in cui vado, perché intanto ho accorciato le distanze, le barriere, perché oggi le fonti di informazione sono quotidiane, veloci, io di una città posso conoscere tutto informandomi. Questa nostra vocazione alla costruzione di relazioni ha fatto sì che il nostro territorio ad esempio ha una piattaforma di accoglienza di 1200 alberghi, quindi noi non siamo mai quei 200.000, ma il nostro territorio fa 25 milioni di presenze turistiche, quindi ce le fa il comune di Rimini, 1200 alberghi, 500 sono aperti tutto l'anno. Questo quartiere fieristico per noi è economia e lavoro, è meeting dell'amicizia e poi è economia. Per dire che le funzioni che sono attribuite a un comune, in questo caso il nostro, non sono mai quelle relative alla fotografia statica dell'anagrafe. Quanti siete? 150.000. Noi abbiamo ad esempio sul lato della sicurezza, e lo dico non per dato polemico, un'infrastrutturazione di presidi della sicurezza che non sono parametrati alla nostra dimensione economica, alle 25 milioni di presenze turistiche. L'Italia è un paese che evoca le riforme e non mai, e quindi siamo sempre fermi. Penso alla questura di Rimini che attende una sede da 30 anni, quando le nostre dimensioni economiche sono quelle di città anche metropolitana, abbiamo una media standard. Pensate alle funzioni. Noi si sciolgono i ghiacci, ma noi siamo a mollo nel Mediterraneo. Su 15 regioni, 11 sono in infrazione europea per gli scarichi a mare. Ti chiami Italia, hai 8.000 km di costa, quello che ti circonda è ferito quotidianamente. In Italia non si fa programmazione sul lungo periodo, si fa solo sul breve, perché tanto si vuota ogni sei mesi e quindi non conviene fare il sistema idrico fognario. Quindi disperdi l'acqua, quando piove crollano borghi, frane, colline e quando ci sono forti piogge tutte le città scaricano a mare le acque reflue. Noi abbiamo deciso, su una pianificazione lunga, di darci delle priorità. Ad esempio nel 2020-2021 va a compimento quell'investimento strategico che abbiamo fatto, abbiamo iniziato a fare 6-7 anni fa, che si chiama piano di salvaguardia l'azione ottimale, 280 milioni per fare prima al sotto ciò che non si vede, il sistema idrico fognario, mettere a posto, dare un investimento al nostro mare e poi occuparci del sopra, il sopra della città, il sopra del lungomare. Saremo l'unica città nel 2020 che non scaricherà neanche una goccia di acqua reflua perché abbiamo fatto prima l'infrastrutturazione del sotto. Quindi è bella questa domanda perché uno si aspetta da un comune, magari una fotografia che assegna a un comune X abitanti, si aspetta che ci siano funzioni per X abitanti. Il piano di salvaguardia l'abagnazione, sistema idrico fognario che chiuderà 11 sforatori, il nostro territorio inizia nell'Appennino, confiniamo con la Toscana, con Areste e finisce al mare, fa sì che nell'ambito di questo grande investimento per tutelare il mare abbiamo dovuto fare un depuratore per 800.000 abitanti equivalenti, quindi quanti siamo? Siamo quelli che siamo qui dentro, voi siete cittadini temporanei di questa città e quindi noi dobbiamo pensare, visto che la nostra industria si chiama turismo, noi non esportiamo laminati d'acciaio, importiamo, diciamo così, virgolette turisti consumatori, vuol dire che chi viene deve essere come chi abita nei servizi, nell'uso degli autobus, della metropolitana di costa che inaugureremo, quindi questo per dire che se si ascoltasse la voce dei sindaci ogni tanto, e lo dico indipendentemente dal governo che non so neanche quale sarà, perché mentre ci parliamo c'è un dibattito, però se si ascoltasse la voce dei sindaci forse si potrebbero fare quelle riforme che assegnano le funzioni ai territori, ai comuni, in modo tale che questi possono rispondere alle esigenze che i territori hanno, si chiamerebbe autonomia, io sono per tenere unito il Paese, ma se magari mi dai un po' di autonomia per gestire meglio le risorse che ho, forse rispondo meglio al tema del mare, degli autobus, delle fogne che mancano, quindi è anche un gran bel dibattito quello che si può fare. In Italia manca un'architettura istituzionale, io sono stato per qualche mese presiniente di provincia, perché ero presidente di provincia quando dovevano essere abolite, adesso le province sono state riesumate, sono un ibrido che è lì sospeso e non si sa bene che funzioni esercitano. Perché manca un'architettura istituzionale del Paese? Perché alla fine probabilmente manca un interesse davvero al bene comune. La Francia è uno Stato nazionale organizzato in modo centralistico, la Germania è una Repubblica federale, è un Paese forte ma che investe sui lender. Noi non siamo né l'uno né l'altro, noi abbiamo 8.000 comuni, le province, le regioni, per dare una risposta ad un piano di sviluppo aziendale, di un'azienda che deve ampliare il proprio cappannone, deve essere autorizzata dal comune col piano regolatore, deve andare in provincia, tutti si occupano di urbanistica, la provincia, la regione. Quando noi tentiamo di snellire la procedura, convochiamo la mitica conferenza di servizi, che vuol dire tutti i soggetti preposti per far prima. Il problema è che ne convochi 30, ognuno ha una procedura e il piano di sviluppo per ampliare il cappannone ci mette 30 anni. Questo vuol dire che l'Italia ha urgenza di riforme radicali, forti, per consentire a quei pezzi d'Italia che stanno nel cambiamento, non evocano la retorica del cambiamento, ma lo praticano, di avere delle risposte dei mezzi, delle funzioni più utili per rispondere ai cittadini. Questo è un po' il tema delle funzioni. Dicevamo prima, l'ultima battuta, stiamo guardando anche cosa sta succedendo, le ansia che arrivano al telefonino, sarebbe bene che sia nel caso si andasse alle elezioni, sia magari nel caso di un governo istituzionale che guarda la manovra, il bilancio, un po' la voce dei sindaci la si ascoltasse, una piattaforma, un'agenda urbana, quattro paletti che possono venire da chi ha a che fare con la gente, se venissero messi dentro l'agenda di chi governa Roma sarebbe forse non solo il caso, ma daremo anche una mano al paese, perché i sindaci sono l'unico livello amministrativo e di governo e in questo senso esprimono, non noi tre che siamo qua, una classe dirigente importante, perché siamo gli unici che i cittadini sanno dove lavorano, ti vengono a bussare e sanno anche dove abitiamo, quando non basta la risposta in comune a me vengono a suonare al grattacielo, io abito al grattacielo, sanno dove sto e quindi quando ti confronti con una risposta che devi dare, non con una roba che devi raccontare, la classe dirigente è costretta a rafforzarsi e quindi da questo punto di vista la nostra rivendicazione a Roma è di ascoltarci, non è per noi tre, ma perché magari diamo una mano al paese per rimettersi in cammino, uniti si vince in questo senso, uniti anche con i comuni, con i sindaci, con le realtà territoriali. Grazie. Il concetto del cittadino temporaneo, quindi del fatto che ci muoviamo, eccetera, e poi sicuramente è stato un passaggio che è uno dei temi che abbiamo e che adesso magari negli interventi successivi può essere toccato, cioè del fatto che poi l'architettura istituzionale e i meccanismi, i processi decisionali e quant'altro non aiutano. Partiamo dal livello regionale, quindi come regione, come si interloquisce in maniera... se puoi passare il microfono scusa... con questo livello e con questa voce che ha questo tipo di valore che veniva adesso ricordato. Grazie, grazie, buonasera. Diciamo, l'ente regionale è per definizione un ente di programmazione, che è la parola magica che ha usato il sindaco di Rimini, anche perché se noi diciamo insieme si vince, per poter vincere dobbiamo sapere che cosa vogliamo vincere e tutti dobbiamo avere lo stesso obiettivo, altrimenti è difficile poi vincere la partita. E questo è il grande tema che in particolare per il mezzogiorno, ma in generale per questo Paese, non è abitudine la programmazione di medio-lungo periodo. Allora io penso che nella costruzione della vittoria la regione debba è innanzitutto che peraltro è uno di quegli enti che ha le spalle più larghe dal punto di vista finanziario. La regione Puglia dispone nella programmazione 14-20, ha disposto di 7 miliardi e mezzo di euro, cioè stiamo parlando di cifre fantasma, questo è il dato. 7 miliardi e mezzo vanno programmati, vanno concertati e vanno condivisi. Non tanto per spenderli, questo è stato il passaggio successivo dell'insieme si vince. Capire cosa vogliamo realizzare e quindi non lavorare semplicemente sulla pianificazione finanziaria, ma su una programmazione strategica. Allora il momento nel quale la regione nel suo ruolo di ente di programmazione ha scelto che gli assi di sviluppo fondamentali su cui proiettare la Puglia nel futuro, nei prossimi dieci anni, almeno nei prossimi dieci anni, sono il turismo e la cultura, a quel punto tutto il sistema di programmazione, anche finanziaria, anche una buona parte di quei 7 miliardi e mezzo, sono stati pianificati di concerto con i comuni, le province, le città metropolitane, gli operatori privati, le associazioni di categorie e così via dicendo in quella direzione. Faccio un esempio da questo punto di vista, il nostro piano strategico del turismo a dieci anni si chiama Puglia 365, dove l'obiettivo è chiaro, la Puglia deve essere fruibile 365 giorni all'anno, significa che il tema balneare, il prodotto balneare non può essere l'unica linea di prodotto, bisogna diversificare il prodotto per destagionalizzare e internazionalizzare. Il caso del comune di Bari è un caso paradigmatico da questo punto di vista, perché penso di poter dire che Bari non era una città turistica, era una grande città commerciale, una grande città di traffici, servizi e così via dicendo, ma non è mai stata una città turistica. Addirittura a Bari accadeva il contrario, l'estate che invece dal punto di vista del turismo balneare è la stagionalità classica, che poi possiamo allungare perché l'abbiamo portata da maggio a settembre ma è comunque una parte molto limitata dell'anno, a Bari invece avevamo il problema esattamente opposto, per destagionalizzare a Bari occorreva investire esattamente nei mesi di luglio-agosto, quando la città si spopolava e ovviamente se tu vuoi puntare sul turismo in quanto cittadinanza temporanea, peraltro sindaco, nel nostro piano strategico del turismo i turisti li abbiamo ridefiniti cittadini temporanei, perché viene bene e giusto e corretto, perché tu così prendi due piccioni con una fada, fai star meglio i cittadini e la loro comunità e quindi fai sentir parte di quella comunità chi viene temporaneamente a risiedere, se è vero come è vero che oggi la motivazione del viaggio è l'esperienza, l'autenticità, l'essenzialità dei luoghi, del territorio, della sua unicità. Ecco quindi su Bari si è lavorato al contrario e allora se è vero come è vero che l'elemento forte di promozione turistica di una destinazione in ottica esperienziale è il valore del territorio, il valore della comunità, quindi la cultura, quindi il patrimonio culturale, tutta l'operazione su Bari è stata nei mesi di agosto e luglio, mentre nel resto della regione si lavora in tutto il resto dell'anno, concentrare eventi culturali di spettacolo dal vivo e valorizzazione del patrimonio, anche lì coordinandosi perché il comune di Bari in parte è proprietario del suo patrimonio culturale, teatri, caserme, musei e così via dicendo. Altra parte di proprietà regionale, posto che le risorse alla fine sono sempre comunitarie e regionali, anche lì il tema è capire che ruolo assegnare a ciascuno di questi pezzi, non può che nascere da una valutazione comune, di insieme e lì per esempio nasce, cito Bari perché c'è il sindaco quindi mi viene più facile ma anche perché poi una regione senza il suo capoluogo non c'è, si è lavorato sul cosiddetto miglio dei teatri, Bari ha tanti teatri a partire dal Petruzzelli che è il più famoso di tutti ma ha tanti teatri, ciascuno dei quali può rispondere a una vocazione diversa, l'una al contemporaneo, l'altra alla prosa, l'altra alla musica, l'altra alla danza, se tu riesci a costruire, non può ripeto che nascere dal dialogo tra le istituzioni che banalmente ne sono proprietarie e poi tra coloro che dovranno gestirle, che non sono le istituzioni pubbliche perché il pubblico deve fare programmazione, indirizzare, controllare, poi ci vogliono con quelli che la sanno fare, la gestione della cultura, dei contenitori culturali, del turismo, nel rapporto partenariato pubblico-pubblico e poi pubblico-pubblico-privato nasce quella diversificazione del prodotto che oggi ci porta, ed è un dato federalberghi, a immaginare in Puglia, a prevedere in Puglia per il mese di agosto, per il mese di agosto, il solo mese di agosto, un milione e duecentomila arrivi, che significa quattro milioni e mezzo di presenze. Laddove Bari, sufficiente andare a verificare, non c'ha un posto letto libero questa estate, questo sta ricorrendo ormai da due o tre anni a questa parte. Quindi l'insieme si vince è un lavoro congiunto, che mi permetto di dire, chiudo, parte, questo lo diceva bene il sindaco di Matera, nasce da una consapevolezza culturale. Allora io voglio rivendicare con orgoglio la scelta che noi come Regione Puglia abbiamo fatto circa la modalità con cui partecipare al meeting, non semplicemente con uno stand, che era un'operazione molto facile, molto semplice, no, noi siamo intervenuti seguendo la nostra programmazione nella diversificazione del prodotto. La diversificazione del prodotto significa mare, cibo, natura e benessere, cultura. E abbiamo una sagra pugliese qui al meeting, ma soprattutto più ancora abbiamo deciso di coprodurre i spettacoli teatrali del meeting con il nostro teatro pubblico pugliese. Abbiamo cominciato l'anno scorso, ma la cosa ancora più interessante è che l'abbiamo fatto nei luoghi di eccellenza culturale che il Comune di Rimini ha riqualificato, ha valorizzato. Io penso che già in quello, nell'aver collaborato a realizzare lo spettacolo scorso anno attraverso il mare del desiderio alla Darsena, al ponte di Tiberio, appena riqualificata, o Midnight Barabba queste sere al Teatro Galli, e uno può domandarsi che c'entra la Regione Puglia nel coprodurre quegli spettacoli, invece no, esattamente il concetto dell'insieme si vince, perché così noi abbiamo reso la nostra presenza a Rimini al meeting coerente con una strategia che dice inutile restaurare i contenitori culturali se non li si riempie di contenuti culturali di qualità, se non li si tiene aperti 365 giorni all'anno, se non li si rende strumento per attrarre i cittadini temporanei che valorizzino l'economia al momento nel quale il modello di sviluppo economico che hai scelto va verso il turismo e la cultura. Io penso sia questo il tema sul quale l'insieme si vince, acquista un senso, non l'insieme tanto per stare insieme, ma l'insieme sapendo esattamente verso dove si vuole andare, perché come diceva Seneca, non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa in quale direzione andare. Grazie. Allora, la cornice della programmazione è ancora una volta il richiamo al dire che l'insieme richiede che ci sia una direzione. Passiamo a questo punto alla vista del CSI, quindi di un consorzio che mette insieme Regione, Comune di Torino, Università, gli altri antilocali, agenzie e quant'altro, e che io mi stavo anche qui andando a curiosare come missione, dice, gestire l'informatica pubblica per innovare e semplificare la vita di tutti. Quindi è un esempio di insieme sicuramente, è un esempio credo interessante di successo. Qual è il punto di vista rispetto a quello che stiamo dicendo? Grazie. Ma io dico che io sono in CSI da dieci mesi, quindi è un'esperienza piuttosto recente, però quello che stiamo facendo e che trovo assai interessante è il fatto proprio che questa realtà, che è un unicum a livello nazionale, perché di fatto, e questa è l'idea originaria, mette insieme, come dicevi, tutta una serie di soggetti che vanno dalla Regione, dal Comune, dalla città metropolitana, dalle più importanti città metropolitane della regione, le aziende sanitarie, le università, c'è anche un comitato scientifico, per gestire tutto il patrimonio dei sistemi informativi. Ecco, questo è davvero un insieme si vince, no? Perché uno dei punti fondamentali della pubblica amministrazione è riuscire ad avere una visione sulle politiche di sviluppo digitale, che sono poi quelle che abilitano oggi, ma anche tempo fa, lo sviluppo del sistema della pubblica amministrazione dei comuni. Io ho un passato in grandi aziende private, Telecom, Vodafone, poi l'esperienza di Telecom degli anni 90 è stata fondamentale, e in Poste Italiane, che è un'azienda che oggi è sul mercato a partecipazione pubblica. Se dovessi mutuare l'esperienza che ho avuto in queste grandi aziende, il grande salto l'hanno fatto nel momento in cui si sono dotati di infrastrutture e servizi che hanno consentito l'innovazione e lo sviluppo. Parlo soprattutto di poste, immaginate 14.000 uffici postali, l'infrastruttura diventa un fatto essenziale. E quello che noi stiamo mutuando ad esempio nella regione, ma che vorremmo esportare oggi anche a livello nazionale, è proprio partire dall'infrastruttura. Quello che abbiamo realizzato, e anche questo è un unicum, CSI Piemonte gestisce tutta la rete, infrastruttura di rete della regione, ha due data center, oggi è l'unica realtà che è stata qualificata come potenziale polo strategico nazionale, ed è l'unica realtà che insieme ad altri soggetti importanti è un cloud service provider certificato da Algid. Questo che cosa vuol dire? Che il valore delle infrastrutture messe a disposizione di tutta la regione, di tutti i comuni dell'azienda sanitaria, diventa un patrimonio fondamentale anche per la tutela dei dati a disposizione della sanità del cittadino. Sto facendo dei progetti davvero interessanti anche di gestione di open data, quindi del servizio dei dati, e queste piattaforme diventano il valore fondamentale attraverso i quali la programmazione della regione, gli interventi che fa il comune e i comuni per avvicinarsi al cittadino, dare servizi al cittadino e fare anche delle economie di scala sui servizi informativi diventa un valore fondamentale. E qui è fondamentale anche il rapporto che c'è con la pubblica amministrazione che è l'azionista e il cliente in questo caso. Quindi questo duplice rapporto che stiamo costruendo anche con visioni politiche diverse, però io devo dire che essendo al centro di questo sistema, poi alla fine la cosa importante è che se sei davvero un partner per abilitare l'agenda digitale, se sei davvero un partner per fare in modo che i servizi al cittadino diventino dei servizi che diano valore e che migliorino la vita del cittadino, ma anche molti servizi che riguardano ad esempio anche la sanità, il fascicolo sanitario elettronico, questi aspetti diventano qualificanti anche per la capacità che si ha nell'erogazione dei servizi. Quindi io direi che tutti insieme si vince, in questo tipo di esperienza probabilmente il modello è un modello vincente, che noi stiamo cercando anche di esportare in altre regioni italiane, abbiamo iniziato a parlare con altri comuni, con altre città, perché anche questo asset infrastrutturale è un valore fondamentale che può essere messo a disposizione di altri che tali risorsi non hanno o che vanno cercando magari in soggetti privati. Quindi è una grande esperienza importante che abilita pubblica amministrazione e cittadini per usufruire di un insieme di servizi che diventa un valore per entrambe le istituzioni. Esempio di successo dove gli enti si mettono insieme per, che vuol dire che riconoscono che c'è un tema di funzioni che non solo non sta nei confini amministrativi geografici, ma che c'è un tema di competenze, conoscenze ed economie di scala che su questa dimensione trovano queste risposte, esempio della fibra, sono 900 km di fibra, sono un dato importante e significativo, quindi questa è una modalità di declinazione dell'insieme si vince interessante. A questo punto vediamo un ulteriore esempio, dove invece c'è un'impresa, non invece, un'impresa che non è manazione degli enti, ma un'impresa che ha un azionista, che ha una sua storia, dicevo prima 130 anni di storia, quindi nel settore dell'energia, che produce e distribuisce energia, elettrica, gas e quant'altro, e che da qualche anno guarda con molta più attenzione al mondo locale, offrendo una serie di servizi legati all'energia, al facility e quant'altro. Qual è l'esperienza vista da quel punto di vista? Sì, grazie. Per rispondere alla domanda, insieme si vince, la cosa più semplice per me è raccontare l'esperienza di Edison. Edison è una realtà veramente particolare e per spiegarla è semplice ritornare un po' anche alla storia. Chi di voi ha visto il film Edison recentemente? Di quel film io ho trattenuto rispetto alla mia esperienza personale una cosa molto importante. In quel film era evidente un momento di cambiamento e trasformazione epocale nel quale la volontà dell'uomo era di incidere positivamente sul progresso. La cosa simpatica che è successa in Italia, per cui noi ci chiamiamo Edison, è che quell'Edison lì, senza problema di tenere come un tesoro geloso quello che aveva scoperto, scambiò per scambio epistolare con l'ingegner Colombo, fondatore di Edison, il suo brevetto dicendogli è importante che venga sviluppato, usalo. Non ha fatto quello che oggi faremmo come aziende, è mio, ci metto un bel marchio e poi vengo io nel tuo paese a realizzarlo, ma l'ha diffuso, innanzitutto consapevole del fatto che questo avrebbe trasformato il mondo. Grazie a questo rapporto tra due persone visionarie è nato quello che Edison ha fatto, abbiamo elettrificato il nord Italia, abbiamo permesso lo sviluppo industriale di una parte fondamentale del nostro paese. Perché ho citato questo? Perché in Edison, e lo dico serenamente perché sono arrivato in questa azienda dopo vari anni in cui lavoravo altrove, si percepisce, perfino i muri parlano di questa visione, di questo sentimento di interesse pubblico di quello che è il lavoro che facciamo quotidianamente. Questo è un elemento fondamentale che ci porta a far cosa oggi? Nell'ambito di cui noi parliamo, servizi energetici, efficienza energetica, non buttare via l'energia, non produrre un'energia che non venga poi effettivamente utilmente consumata, abbiamo due possibilità. La prima, fare dei servizi e rispondere alle gare del pubblico. Quando il pubblico ha meditato qual è il suo bisogno, fa una gara e alla gara noi si risponde. E questa è un'attività che normalmente viene fatta, ma di visionario e di rivoluzionario rispetto alla crescita del paese non ha granché. Sì, si contribuisce al benessere. Diverso invece è impegnarsi per cercare di capire quello che ancora non è scritto, ma che è veramente la risposta alle esigenze dei nostri interlocutori e amministratori pubblici. E per far questo occorre una capacità di ascolto che non è comune e che solo alle grandi imprese che hanno risorsi importanti è consentito. Bene, noi questo abbiamo iniziato a fare. E cosa abbiamo iniziato a fare? A renderci conto della sproporzione fra il servizio che facciamo pur importante, l'elettrificazione di una città, la distribuzione del riscaldamento, dare energia a ciascun condominio, a ciascun appartamento con le esigenze che abbiamo davanti. L'abbiamo sentito prima, i sindaci hanno parlato di periferie, di rigenerazione urbana, di rigenerazione del tessuto sociale, di programmazione di lungo termine e che ci azzecca questo con una fornitura di energia o una fornitura di inservizio. È fondamentale capire questo perché l'energia è a servizio dello sviluppo della comunità locale, del territorio, degli enti e dei soggetti che fanno parte di questo territorio. Da questo tipo di ascolto nasce alcuni esempi, ve ne cito solo due, di quello che è nato in questi anni di questo atteggiamento. Il primo, il Comune di Milano ci chiama per fare un odito energetico, cioè una verifica della qualità del consumo di energia su una scuola degli anni 70, 2.500 m2 di cui utilizzati 1.500 perché come sappiamo l'andamento demografico oggi è significativamente in diminuzione. Escono i nostri tecnici e vedono una scuola faticente che ragionevolmente non avrebbe molto senso di tenere in piedi. La proposta che ne è nata e di cui stiamo discutendo adesso con l'amministrazione è di demolire e ricostruire la scuola per farne un luogo di aggregazione sociale del quartiere. Questa cosa è una cosa fuori da ogni schema standard di gara pubblica, ma è fondamentale perché è una risposta all'esigenza dell'ecosistema locale e la cosa interessante è che l'amministrazione comunale sta mettendo in piedi idee innovative trasversali e varie sesso arti per permetterci di rendere possibile questa realizzazione che è di interesse dell'amministrazione stessa. Un altro esempio, noi tipicamente come ho detto prima interveniamo nel momento in cui la gara viene fatta, ma la gara è a valle di una programmazione. Però noi abbiamo degli strumenti, anche informatici e anche digitali che derivano dall'esperienza della nostra azienda e che ci permettono di essere un supporto all'amministrazione pubblica per fare la programmazione. Nella città di Torino, insieme con l'università di Torino, abbiamo modellizzato in 3D 11 km2 del centro storico della città. Abbiamo identificato quali sono lo stato attuale degli edifici e gli interventi possibili da fare su questi edifici per ottenere quali possono essere i risparmi ottenibili, ma non solo i risparmi, l'abbattimento di CO2, l'abbattimento di polveri sottili, che è uno dei temi critici dell'inquinamento oggi, è molto trascurato, e soprattutto la generazione di posti di lavoro che questi interventi potrebbero dare. Questo strumento non è un servizio di Edison, ma è ciò che permette a Edison di interagire con le amministrazioni per essere parte attiva dell'ecosistema. Chiudo quindi. Nella nostra esperienza, insieme si vince, vuol dire due cose. Avere e mantenere una visione alta. Chiaro che ciascuna azienda vive tanto più, vende prodotti e servizi che ha a portafogli, è chiaro, ma se a questo non è associata una capacità di affiancarsi allo sviluppo e alla programmazione dell'amministrazione pubblica, muore. Secondo tema, occorre una fiducia. Questo è un elemento dolente. L'amministrazione pubblica italiana, molti amministratori pubblici, non per volontà loro o per mancanza di spirito di intraprendenza, sono molto sotto scacco dell'agonia mediatica, del giudizio comune, spesso mediatico, del tipo se Doretta a Edison o a Enel o a Engie, allora sono connivente con loro. Questo è un tema fondamentale. La fiducia si basa su tre pilastri. Il primo pilastro è la competenza e questo è verificabile dalle esperienze che si possono fare. Il secondo tema è il tema della sincerità, quindi l'interlocutore deve sapere quello che dice e non mentire sapendo di mentire. Il terzo è l'affidabilità, che fa vedere che le cose non solo si dicono ma si fanno. Se si riuscisse a costruire insieme in un tavolo comune, come inizia a essere possibile, una capacità di dialogo tra pubblico e privato su questi, i partenariati pubblico e privato sarebbero estremamente più efficaci e permetterebbero di realizzare l'insieme si vince di cui stiamo parlando. Grazie anche e soprattutto per gli esempi e questi ultimi passaggi perché il tema della fiducia richiamato in questi termini però era già venuto fuori quando si parlava della comunità, l'esempio da Nero che ha raccontato il sindaco del Caro, come Matera è ripartita. Alla fine il tema della fiducia che riguardi le persone, i cittadini, i cittadini temporanei o quelli residenti e quelli residenti e che riguardi gli attori diversi è assolutamente fondamentale. Siccome il tempo è stretto però io se vi do un minuto a testa, un minuto e mezzo alla città metropolitana perché ha dimensioni diverse, considerate il titolo del meeting e quindi mettendo insieme la vostra esperienza professionale o il ruolo politico istituzionale che avete e la vostra esperienza di cittadini, che cosa definisce, che cosa dice che è il volto di una città? Che cosa fa venire fuori il volto di una città? Rifacciamo il giro al contrario, quindi chiedo a Quaini di cominciare. Un minuto. Domanda interessantissima, uno dei temi più affascinanti dell'energia in questo momento si chiama Energy Community, cioè la capacità di produrre localmente energie e scambiarsela fra i pari. Il mio pannello fotovoltaico che può cedere energia a lui che è di fianco a me. Io vado al lavoro, lui invece ha il padre anziano che sta in casa, gli do l'energia. La cosa simpatica di Energy Community, che è affascinante dal punto di vista tecnico, è che è innanzitutto community. Il problema dell'energia, l'ho detto prima, che oggi ci impone un'apertura a guardare all'ecosistema, è che non esiste un Energy Community, se non esiste una community, che abbia uno scopo comune, perché lo scambio di energia è non solo che io ti cedo l'energia, perché se è solo lo scambio di energia, prima o poi cercherò di approfittarmene di te e cercherò di vendetta a un prezzo superiore. Allora il tema fondamentale che connoto una città, un contesto urbano, extraurbano, è l'esistenza di una comunità che condivide uno scopo maggiore. E qua dentro noi vogliamo giocare il ruolo prendendo dalle amministrazioni pubbliche, che è il loro mestiere, l'indicazione di qual è lo scopo di quella comunità, che è diverso se stiamo parlando di Pinerolo che è un contesto montano rispetto a Rimini, rispetto a Milano, rispetto a Cagliari. Grazie. Paccini. Se devo fare un esempio è il prodotto che noi adesso abbiamo realizzato e che è mutuato da Torino Facile, che si chiama Città Facile e è il portale per i cittadini della città. Quindi la possibilità di, perché per il cittadino è importante, iscrivere i figli al nido online, quindi evitare file alla materna, prendersi i servizi anagrafici online, vedere i propri dati sui fascicoli del cittadino. Questo è fare richieste dell'edilizia totalmente digitali. Questo secondo me cambia il rapporto tra il comune e il cittadino. E non è vero che in Italia il servizio digitale non viene utilizzato, perché quando lo metti online aumenta di 10, 20, 30 volte. Quindi quasi la totalità delle iscrizioni al nido del comune di Torino viene fatta online. Quindi secondo me il valore di Città Facile, che è questa cosa che stiamo facendo, potrebbe davvero cambiare abbastanza il volto del rapporto tra il comune, le pubbliche amministrazioni locali e il cittadino. Grazie. Allora, community innanzitutto, poi declinata sul tema dell'energia in particolare. Città Facile, che è questa, adesso uso sempre la parola piattaforma, ma diciamo la possibilità di accedere e di gestire. Patruno, che cosa definisce il volto di una città? Ma uso una questione complessa, difficile, l'identità. Io penso sia l'identità, ma ovviamente essendo un termine molto delicato, molto pericoloso con i tempi che corrono, vorrei declinarla così come noi l'abbiamo declinata come Regione Puglia nel nostro piano strategico della cultura, perché abbiamo anche un piano strategico della cultura. Credo non ci sia regioni in Europa che ha un piano strategico della cultura a 10 anni. L'identità noi l'abbiamo definita meticcia e penso sia un tema che incontra molto il tema del meeting di quest'anno, cioè l'identità significa innanzitutto avere consapevolezza di chi si è. Il tema è come scopri chi sei e la scoperta dell'io più profondo, anche di una città dal mio punto di vista, nasce dall'incontro. Quindi l'identità meticcia, come noi l'abbiamo definita, è un'identità fatta di contaminazioni, di incontro, di costruzione di ponti, di insieme si vince e non di muri, filispinati, municipalismi, campanilismi e così via dicendo che non aiutano in alcun modo. Se si riuscisse a declinare l'identità di un luogo in termini di meticciato, e su questo mi considerate il mezzogiorno avviene da una esperienza di millenni di meticciato e di contaminazioni, io penso che quel concetto di fare rete l'avremmo poi realizzato in maniera seria e della condizione dello sviluppo. Gnassi, cos'è il volto di una città? Perché una città è bella e un'altra no? Perché le classifiche che fanno ogni tanto, escono sui giornali, sono molto discutibili. Sì, le classifiche sono un po' come l'altaleno, una volta sei su, una volta sei giù, sembra una lotteria. Io penso che il volto di una città lo faccia l'anima della città, quindi il suo carattere profondo che è dato da una stratificazione millenaria. Noi abbiamo fatto pianificazione strategica e la stiamo facendo allargando, cedendo sovranità. Piano strategico vuol dire chiamare i talenti a programmare con te il futuro sul periodo lungo. Siamo andati a Stoccolma, a Copenaghen per vedere come si fanno i quartieri. Poi li abbiamo tradotti in romagnolo. L'abbiamo tradotto con questa S un po' che sgomma, che però si fa capire in tutto il mondo. E questo vuol dire hardware, cambiare i quartieri, la programmazione. E poi c'è il software. Il software è il chi sei, l'identità. E il volto di una città secondo me è dato dalla sua anima più profonda. E se dovessi dirla un po' anche con le parole di Fellini, Fellini diceva, visto che è il suo centenario quest'altro anno, che tutto si immagina. E quindi la città, l'anima della città di Rimini è la possibilità di immaginare qualcosa che non vedi, che non c'è. E in questo ci sentiamo una città non perfetta ma profondamente libera. E la libertà delle persone, se messe insieme, davvero può fare la differenza e può conquistare anche quello che non si immagina. Grazie. De Ruggeri. Sì, mi è stato chiesto com'è la tua città. Io ho detto che è una città buona e fiera. Buona perché non c'è criminalità. Fiera perché ha acquisito un senso di missione. Quale missione? Quella di rappresentare un esempio vincente di una città e soprattutto di una testimonianza di un mezzogiorno vincente. Questo è il punto centrale della forza che oggi ha la città e quindi su questa forza deve diventare il collante di tutti i territori meridionali su cui innestare questo senso di fiducia, di ardimento, di ambizione. Grazie. Chiudiamo con il sindaco De Caro. Io credo che il volto di una città sia rappresentato dal passato di quella città, dalla storia. Italo Calvino diceva che una città non dice il suo passato, lo contiene come le linee in una mano. Parla della città e dalla storia di quella città, gli spigoli di una via, le antenne parafulmini, gli stipiti. E c'è un'altra frase che ho ascoltato qualche mese fa, non è di uno scrittore importante come Calvino, è di un personaggio di una serie televisiva, la serie televisiva credo si chiami il trono di spade. E c'è questo personaggio che a un certo punto dice che cosa tiene insieme le persone. Pensiamo al fatto che una città tiene insieme le persone. Quel personaggio a un certo punto dice che cosa tiene insieme le persone. Le armate, loro, i vessilli. No, le storie. Ecco, una bella storia, nessuno potrà fermarla e nessuno potrà sconfiggerla. Io credo che il volto di una città sia la storia di una città. Qual è la storia della mia città? Provo a usare un tema divisivo che però credo si ritrovi anche nel tema più complessivo di questo meeting. Se guardate il mio volto, che cosa c'ha il volto del sindaco di Bari di particolare? C'ha di particolare il fatto che nella mia città, è una città sul mare, sono partite tante persone, sono arrivate tante persone. Nella storia la mia città si affaccia sul mar Mediterraneo, sull'Adriatico, una parte del mar Mediterraneo che porta ancora l'eco di tante storie, di tanti popoli che si affacciano sul Mediterraneo. Ecco, a me quando è capitato di andare in Tunisia una signora mi ha fermato, una signora poi ho scoperto essere di Torino, e mi diceva quanto costare questo tappeto? Io dissi non lo sapere signora, essere italiano pure io. La dimostrazione del fatto che l'influenza di altri popoli si riverbera anche sul volto del sindaco. La mia città è stata sede di un califato. Sempre per pensare alla storia, nel 1089 succede una cosa particolare nella mia città. Arriva il santo patrono San Nicola che non è barese, arriva da Mira, Asia minore, oggi Turchia. E su quella traslazione, l'abbiamo chiamata così, in realtà è stato un furto, sono passati 10 anni e è andato in prescrizione. Su quella traslazione è stata costruita una delle narrazioni storiche e religiose più importanti al mondo, la storia di San Nicola, il santo dalla pelle nera che arriva nella mia città. E attorno a quella figura la mia città ha costruito la propria identità, l'identità di una città accogliente. Che è successo nella storia dopo? Oggi ascolto le interviste, vedo il dibattito che si anima quando arriva una barca, una nave, le ONG, 100 persone, 30 persone. A Bari nel 1992, qualche giorno fa abbiamo ricordato quello che è accaduto, se non ricordo male, era il 9 agosto del 1992, sono passati 27 anni, arrivano contemporaneamente con un'unica nave 20.000 albanesi. Quindi per la prima volta il flusso migratorio ha bussato alle porte della mia città, nessuno le ha cacciate. Quelle persone, alcune di loro continuano a vivere con noi, però so che ci hanno dato l'onore di far crescere i loro figli insieme ai nostri figli. Oggi la situazione non è più la stessa, la mia città per fortuna continua a essere una città accogliente, perché credo porti quella storia. Certo, le nuove generazioni non sono come quelle precedenti, noi cerchiamo di tramandare quel senso di accoglienza alle nuove generazioni. Chiudo, qualche mese fa è arrivata una barca, una nave, anche da noi, dovevano stare solo per qualche minuto nella mia città, per qualche ora, in attesa di essere dislocati nel resto del territorio, erano persone che avevano bisogno di lavarsi. Io ho lanciato un appello, mentre lanciavo l'appello sui social per portare abiti, cibo, bottigliette di acqua, chi mi aiuta nella comunicazione a un certo punto diceva stai attento perché rischi di perdere consenso, perché è un tema molto dibattuto. E infatti quando ho scritto di portare quelle cose è successa una cosa strana, c'era gente che mi scriveva delle cose particolari, una signora che mi diceva non fate entrare queste persone, devono stare qualche ora, non le fate entrare perché ci tolgono il lavoro. Per esempio mia figlia è stata costretta ad andare a Londra a trovare lavoro e io gli ho risposto sotto, signora, tecnicamente dopo la Brexit sua figlia ha tolto un posto di lavoro a un extra comunitario. Ho la signora che mi scriveva, sindaco, stai attento perché quelle persone vengono in città e ci creano dei problemi. Pensa alle cose serie, pensa alle famiglie come la mia che hanno i mariti in carcere. A quella signora gli ho risposto, signora, io non lo so se queste persone per qualche ora ci creeranno dei problemi in città. Suo marito qualche problema ce l'ha creato, visto che se lo so portato in galera, forse qualche problema di più ce l'ha creato. Fino ad arrivare a un ragazzo che mi ha srotolato uno striscione e me l'ha fotografato e mi ha scritto stop all'invasione. A quello non gli ho risposto sotto, sono andato a prenderlo nel ristorante di cui è titolare e l'anomalia è che quel ragazzo che si chiama Danny era una delle 20.000 persone che era venuta in Italia con quella nave che si chiama nave Vlora nel 1992. Ho provato a spiegargli che se ci fossimo comportati con lui, come lui si voleva comportare con quelle persone, lui forse non avrebbe avuto un futuro che oggi ha nella mia città perché il nostro paese all'epoca è stato un paese accogliente. Questo per dire che le cose cambiano, però devo dire la verità, la mia città è rimasta una città accogliente perché a quell'appello hanno risposto più di 2.000 persone, tante persone che hanno portato cibo, vestiario, ciabatte, cappotti, anche se restate, hanno portato di tutto. A un certo punto ho dovuto chiudere anche il comune perché erano troppe e le abbiamo utilizzate grazie alle associazioni della nostra città anche per tante altre persone. Ecco io quel giorno a chi mi diceva di non pubblicare quel post sui social network risposi io posso anche perdere il consenso, posso anche perdere le elezioni. Quello che non voglio perdere è l'anima di un sindaco e soprattutto non voglio perdere la storia della mia città. Io poi sono stato rieletto con il 67% e questo credo dimostri che la storia della mia città è la storia di una città accogliente. Grazie. Mi pare un dibattito assolutamente ricco, io non mi permetto di pensare alle conclusioni ma voglio lanciare tre spunti. Primo, credo che come mitica abbiamo fatto molto bene a porre il tema della città perché veniva detto prima in alcuni passaggi l'Italia non è la Francia, non è la Germania, è un paese fatto da città e da città anche piccole ed è lì che ci sono le storie, la vita, l'incrocio, il sistema di relazioni e quant'altro. Noi siamo fatti così e quindi il fatto che abbiamo provato quest'anno a discutere di questo a diversi punti di vista credo che ci abbiamo preso e sarebbe interessante continuarlo questo dibattito. Secondo, ho sentito, seppure nei tempi stretti, degli esempi pur evidenziando criticità assolutamente positivi di cose che stanno accadendo e quindi le cose ci sono, si possono fare, è stata di guardare e di imparare e mi pare che la disponibilità e la volontà di tutti gli attori attorno al tavolo, che sono diversi, confermi questo. Terzo, permettetemi un passaggio personale, magari fuori luogo, però in un dibattito così, dove in questo momento, poi in tanti ci spiegano, comunque insomma il tema della politica più o meno degenerata, insomma il fatto che io ho ascoltato tre sindaci che amano la loro città e che hanno descritto, ma soprattutto il modo in cui l'hanno fatto, il fatto di dire che ci sono dei sindaci che volendo bene alla città perché è fatto di meticciato, di storie, di relazioni, di comunità, eccetera, eccetera, lavorano davvero non in astratto per quella cosa che spesso si evoca in temi di bene comune, quindi sono più ottimista, cioè c'è un pezzo di politica che è bella, che è seria, che non è perfetta, non fa le città perfette, ma c'è, e ci sono altri interlocutori che su questo livello di interlocuzione non sono solo disponibili, ma sono interessati e sono in condizione di mettere tutto quello che serve in temi di risorse e competenze. Credo che questo sia, almeno personalmente, a me fa molto bene, questa sera sono un po' più allegro che altri momenti. Ringrazio, ringrazio gli ospiti e ci sono gli appuntamenti della settimana. Grazie.